Il nostro telegiornale 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 Ancora buonasera, ieri abbiamo fatto visita alla discarica di Cerico, o meglio al blocco che hanno effettuato i cittadini del comprensorio presilano, c'era anche il sindaco di Rovito, ma tanta gente di quei comuni che si oppongono al conferimento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio e anche nella discarica che serve. Nonostante le resistenze la decisione è presa, sarà l'impianto di Cerico ad essere la valvola di sfogo delle enorme mole di rifiuti di 49 comuni che hanno la raccolta ferma, sia che effettuino una raccolta differenziata con delle percentuali lodevoli, sia che invece si affidino ancora al vecchio sistema. Per dieci giorni, dicevo, poi dovrebbe riaprire lunedì Pianopoli e quindi la situazione dovrebbe tornare alla normalità, forse, visto che è davvero tanta la spazzatura da raccogliere in tutta la regione. Cominciamo da Cerico. Eccola la delibera regionale con la dicitura urgente in cui si dispone il conferimento dei rifiuti nella discarica che poi discarica non è in località San Nicola a Cerico. L'impianto di compostaggio e di questo che si tratta di proprietà della società MIGA dovrà accogliere per un periodo massimo di dieci giorni la spazzatura di 49, questo è il numero esatto, 49 comuni del Cosentino. Ci sono le città di Cosenza, Rende e Castrolibero, ci sono i comuni dell'SR, nell'elenco figura anche Paola sul Tirreno Cosentino. La quantità presunta di spazzatura che dovrebbe essere conferita nel sito ai piedi della Sila è di 345 tonnellate. Cosa prevede l'emendamento? Si legge testualmente che è a decorrere. Dal giorno 14 febbraio 2014 la regione autorizzerà il conferimento dell'indifferenziato anche presso la discarica di Cerico con priorità ai comuni viciniori. Tenuto conto della capacità operativa dell'azienda e della situazione della viabilità, la ditta MIGA si impegna a pretrattare, triturando e deferrizzando il ripiuto ed effettuando le previste verifiche radiometriche. Dal verbale della riunione che si è tenuta in prefettura il 18 febbraio scorso la rassicurazione, la regione Calabria, allo scadere del decimo giorno, adotterà un nuovo provvedimento che limiterà il conferimento presso l'impianto tecnologico di Cerico ai soli comuni virtuosi della Presila e delle Serre Cosentine che avranno raggiunto risultati performanti nella raccolta differenziata e comunque non oltre i limiti della capacità di abbanco. Intanto la protesta in località San Nicola a Cerico continua, finora di camion non ne sono arrivati. Il sindaco di Cerico Luigi Corrado stamattina si è recato in tribunale un lungo colloquio con il procuratore Dario Granieri. Il primo cittadino è preoccupato, teme per l'ordine pubblico, una vicenda che ha stravolto le notti del centro presilano dove non si dorme più, si resiste, ma non c'è sentore che la regione faccia passi indietro. E intanto dicevamo della prossima apertura della discarica ai pianopoli. Negli giorni scorsi si è parlato di un'apertura parziale, ossia destinata soltanto ai comuni della provincia di Catanzaro. Un provvedimento che ha lasciato nel panico le altre province, in particolare la grande provincia di Cosenza che non ha degli impianti dove conferire i rifiuti. Valentina Palmieri. I primi 30 camion sono già partiti, direzione Gioia Tauro. Nell'impianto della città della Piana verrà effettuato un trattamento dei rifiuti. Poi di nuovo sui mezzi, direzione Puglia. Sarà così per i prossimi giorni. La discarica di pianopoli non ha riaperto neanche questa mattina. I lavori di manutenzione dell'arteria di collegamento alla buca sono finiti, ma resta da completare la raccolta di percolato, liquido che ha aumentato a causa della pioggia caduta nei giorni scorsi. L'operazione di bonifica richiederà tre giorni prima di lunedì, dunque Pianopoli non potrà riaprire. Nel frattempo si cerca di tamponare l'emergenza chiedendo soccorso alla vicina Puglia. Questo comporterà a gioco forza un aumento dei costi per la gestione. L'imperativo però è liberare le strade dalla spazzatura. In due settimane di stop della discarica si sono accumulate oltre 20.000 tonnellate lungo le strade calabresi. Guardate, questo è l'ingresso dell'ospedale di Castrovillari. Sacchetti e scatoloni delimitano di fatto l'accesso al nosocomio, l'odore nauseabondo. Il sindaco di Rossano, Antoniotti, minaccia di chiudere le scuole per motivi di sicurezza e tutela della salute. Un gruppo di genitori per protesta ha preferito non fare entrare i figli in classe oggi. Lo scenario non cambia se si volge lo sguardo al tirreno cosentino. Anche qui Sacchetti in strada, vicino ai cassonetti della differenziata, si accumula di tutto dai pneumatici alle caldaglie. E queste erano le immagini di rifiuti. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca in questi giorni al centro di importanti inchieste giudiziarie. E' un tema ricorrente, gli incarichi esterni dati dalle amministrazioni pubbliche, violando la normativa e provocando danni erariali. Le cosiddette consulenze d'oro che in una fase di crisi come quella attuale cozzano con l'esigenza di controllo della spesa. Non ci sono risorse per servizi fondamentali e poi il denaro pubblico viene sperperato. Malisa Fallico, oppure dato senza rispettare le regole. Il vizio degli stipendi d'oro, delle pensioni d'oro e delle consulenze d'oro continua ad imperversare in Italia. Le cronache regionali ci restituiscono da un lato una Calabria estremata dalla disoccupazione, con operai che non sanno più come protestare per chiedere lavoro o scongiurare il licenziamento, con i cassa integrati che non percepiscono le indennità da mesi, con numerosi suicidi di imbrenditori riconducibili a questioni economiche come rilevato da Demoscopica. Dall'altro una regione in cui, negli enti pubblici, persistono sprechi e vizi, a cominciare appunto dagli incarichi esterni dati in barba alle esigenze di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa. E già perché nel giro di pochi giorni si sono profilate delle vicende giudiziarie che rendono conto di una gestione della cosa pubblica a dir poco discutibile, anche se ovviamente vale la presunzione di innocenza perché siamo in fase di indagini preliminari. Il direttore generale dell'Asp di Cosenza, coinvolto in un'inchiesta della procura Abruzzia, viene interdetto per due mesi dai pubblici uffici per aver conferito ad un solo avvocato 45 incarichi in tre anni, per circa 900 mila euro al netto delle ritenute, nonostante l'azienda sanitaria provinciale conti in organico otto legali. Passano poche ore e arriva la notizia che la Sorical, la società che gestisce il ciclo integrato delle acque in Calabria, è al centro di un'indagine delle fiamme gialle, sempre per consulenze d'oro, le cui risultanze sono state inviate alla Corte dei Conti. Si contesta un danno erariale per un milione di euro. Avrebbe relargito incarichi legali a pochi avvocati, sempre gli stessi, alcuni fuori regione, bypassando le procedure previste il bando pubblico, per ottenere le migliori condizioni anche economiche. E come se non bastasse, la società sarebbe stata talmente generosa da pagare anche i legali di una banca che aveva accordato un finanziamento. E il 26 marzo, tornando alla sanità, davanti al GUP del Tribunale Bruzio, compariranno sei dirigenti dell'azienda ospedaliera di Cosenza, tra cui il direttore generale Paolo Gangemi, con l'accusa ad abuso d'ufficio. Anche in questa inchiesta, incarichi legali conferiti a due avvocati di Reggio Calabria non del tutto vantaggiosi per l'azienda. Non sono grandi importi, ma, secondo l'accusa, i legali sarebbero stati strapagati. La domanda sorge spontanea. Possibile che in una situazione così grave, in cui ai cittadini vengono chiesti sacrifici enormi, gli enti pubblici continuino a sperperare risorse? Cambiamo argomento, parliamo di agricoltura e maltempo. La provincia di Vibo chiama a raccolta gli agricoltori della zona affinché aiutino l'ente a superare le difficoltà lasciate in eredità dal maltempo. Sentiamo. Le eccezionali precipitazioni dei primi giorni di febbraio hanno messo in ginocchio gran parte del territorio provinciale, creando forti disagi su tutta la viabilità e arrecando danni gravi alle infrastrutture e alle coltivazioni. Ma, a fronte dei danni quantificati in almeno un milione e mezzo di euro, la provincia è finora intervenuta per una spesa di appena 150 mila. Un'inezia, certo, ma questo è possibile dinanzi alla cronica mancanza di risorse e dall'assenza di sostegni da parte dei governi nazionali e regionali. Una situazione che definire insostenibile è un eufemismo e della quale si è reso conto lo stesso commissario straordinario della provincia di Vibo Valencia, Mario Ciclosi, che dinanzi all'impossibilità di agire ha scelto la strada del cambiare modi e metodi. L'idea è quella di porre in essere un percorso partecipato e condiviso che porti in tempi rapidi ad azioni concrete che salvaguardino e tutelino il territorio vibonese. In sostanza, un invito alla condivisione delle responsabilità, ognuno per le proprie competenze, perché una cosa è certa, se le strade provinciali ed ogni pioggia abbondante si trasformano in trappole mortali, le colpe sono da individuare in ben più complessi meccanismi che chiamano in causa enti e cittadini, oltre che la stessa provincia. E' questo il senso di un primo incontro al quale sono state invitate le associazioni di categoria e gli ordini professionali del settore agricolo, perché è indubbio che l'agricoltura ha un ruolo strategico a tutela e a salvaguardia dell'ambiente. Il territorio è stato violentato nel corso del tempo, quindi ha lasciato delle tracce, delle ferite importanti. La provincia ovviamente come proprietà farà quel che deve fare, ma ha bisogno ovviamente del concorso dei privati e anche degli altri enti pubblici per cominciare a porsi seriamente il problema del territorio. La sfida che mi piacerebbe lanciare è un'altra, la provincia di Vibo difende il suo territorio, cura se stessa. Il fatto nuovo è aver chiamato il mondo dell'agricoltura. Le strade passano attraverso i terreni, soprattutto i terreni agricoli, in particolare ovviamente nel contesto territoriale di Vibo Valencia. Quindi per forza di cose bisogna fare un'alleanza di manutenzione. La provincia per quel che riguarda sulle sue strade, ma anche i proprietari per la manutenzione del loro territorio ed evitare quindi dei danni, che i danni della manutenzione mancata si trasferiscano ovviamente sulle stesse strade. Abbiamo una notizia che riguarda la sanità. Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, in qualità di commissario d'acta del piano di rientro sanitario, ha firmato oggi il decreto riguardante l'accreditamento istituzionale della Fondazione per la ricerca, la cui ha i tumori Tommaso Campanella, con sede in località Germaneto di Catanzaro. Si tratta, dice Scopelliti, di un primo atto concreto che dà certezze ad un percorso condiviso e che sarà seguito da ulteriori provvedimenti necessari a dare stabilità e prospettive ad una struttura fondamentale del servizio sanitario regionale per la cura e la ricerca delle malattie oncologiche. Per la struttura oncologica, per come è spessamente specificato nel DPGR, sono previsti per il reparto oncologia 35 posti letto e ricovero ordinario, di cui 4 regime di ricovero diurno. Inoltre, Scopelliti ha firmato il decreto che conferma l'accreditamento della casa di cura privata a Villa Sant'Anna di Catanzaro. Le due strutture rientrano nel riordino della letto ospedaliera per la determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati e per post-acuzie dei soggetti pubblici e privati, il cui iter è in itinere. Equitalia vuole essere più vicina alle imprese. Per questo, a Cosenza ha firmato il protocollo d'intesa con la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Sentiamo. L'intento è quello di migliorare i servizi a favore delle imprese, grazie ad un canale dedicato di assistenza. Per questo Equitalia Sud e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato hanno firmato a Cosenza un protocollo d'intesa. L'accordo, denominato Sinergie per le imprese, prevede supporto informativo e uno sportello telematico. Ma i soci della CNA potranno avere anche delle consulenze personalizzate. Un'attività che stiamo mettendo in piedi anche con altre istituzioni, quindi con altri ordini, relativamente alla possibilità di avere un canale privilegiato telematico da parte di queste associazioni per poter risolvere, vedere risolvere le loro problematiche, avere risposte puntuali, documentazione, quindi eliminare file agli sportelli per un'impresa che non è un singolo cittadino che magari può permettersi di avere del tempo a disposizione. Le aziende non ne hanno, i tempi sono soldi e quindi noi ci porgiamo nei confronti di queste attività operative sul territorio in tutta la nazione per cercare di eliminare i tempi morti e fornire delle risposte precise e più puntuali possibili. Ci sarà uno sportello ad hoc all'interno dell'agenzia che ascolterà le aziende e i consulenti una volta a settimana e in più ci sarà anche uno sportello telematico a disposizione dei nostri associati. Parliamo invece del Parco Nazionale della Sila, dopo cinque anni volge al termine il primo mandato di Sonia Ferrari come Presidente ed è tempo di trarre un accurato bilancio sulle cose fatte. Stefania per vedere, sentiamo. In un momento così delicato per la vita della nostra regione, ricca di evidenti ma molto spesso trascurate specificità, specialmente ambientali e paesaggistiche, bisogna necessariamente puntare sulle eccellenze, come ad esempio sul Parco Nazionale della Sila, che gestisce alcune fra le zone più suggestive e selvagge della Calabria, con vaste e splendide foreste, distese su dolci altopiani, con emozionanti paesaggi protesi sul Pollino, sulla Spromonte, sull'Etna, sul Marioni e Tirreno. Il Parco Nazionale della Sila, insomma, è sinonimo di panorama mozzafiato, aria incantevole della nostra regione, ma solo grazie al lavoro del suo presidente, è riuscita a fare passi da gigante. Sicuramente quello che probabilmente sarà ricordato di più sono le candidature UNESCO, che sono dei momenti importantissimi e che riescono a, in qualche modo, a far arrivare il Parco su un panorama internazionale. E poi ci sono tantissime altre cose che abbiamo fatto significative, soprattutto credo che sia aumentata la consapevolezza dell'importanza delle aree naturali protette e quindi della bellezza e della ricchezza di cui dispone la nostra regione. È necessario attuare un lavoro di valorizzazione laddove esistono le potenzialità ed è proprio quello che ha fatto Sonia Ferrari nei suoi primi cinque anni da presidente del Parco Nazionale della Sila. Cinque anni intensi che hanno fatto registrare un incremento positivo delle attività di salvaguardia delle aree protette silane, oltre quelle legate allo sviluppo sostenibile dello splendido altopiano calabrese. Devo dare atto a Sonia Ferrari di aver messo una marcia in più, di aver dato un impulso notevole alla guida del Parco. Ha messo in campo iniziative lodevoli e soprattutto ha ricercato una cooperazione, una sinergia con gli enti locali. Torniamo sulla questione rifiuti perché se Cosenza e altri 48 comuni hanno trovato una soluzione temporanea nel sito di Celico, Catanzaro invece ha trovato l'impianto di Dialli dove per dieci giorni saranno sversati rifiuti indifferenziati del capoluogo che saranno conferiti nel sito di trasferenza temporaneo. Questo è stato stabilito con un'ordinanza del sindaco Abramo. Così come Reggio, un'altra notizia di agenzia che vi riporto, ha trovato sfogo nell'impianto di San Batella. Insomma, soluzioni in tampone in vista dell'apertura di Pianopoli ma sapendo bene che non è questo il futuro della Calabria. Cambiamo argomento, parliamo di sport, si avvicina, come dicevamo, il compleanno del calcio cosentino. Domenica ci sarà una tappa importante, quella della partita fra Cosenza e Versa Normanna. Cancelli aperti da mezzogiorno in uno stadio di San Vito che si sta riempiendo davvero in ogni ordine di posto. Oggi è stata anche aperta la tribuna B scoperta perché pian piano tutti gli spazi vanno a colmarsi. Fra l'altro grazie all'aiuto di scuole e scuole calcio che saranno collocate nella Curva Nord Catena. Insomma, si prepara un colpo d'occhio straordinario per questa partita con il grande impegno dei tifosi della Curva Sud, dell'associazione Cosenza nel cuore che stanno mettendo a punto le ultime mosse di una coreografia che resterà negli occhi del cuore di chi affolerà le platee del San Vito. Ma non è solo questo perché tutta la città si sta organizzando, si sta colorando. Anna Franchino ha fatto un giro per vedere un tramonto che si tinge sempre più di rosso-blu. Un secolo di vita per lo sport più amato in città cresce l'attesa per i festeggiamenti del centesimo compleanno dei lupi. Fervono i preparativi non solo per la gara di domenica con la Versa Normanna ma nell'intera provincia. Si lavora speditamente perché ognuno vuole dare il proprio contributo. Nelle strade, nelle piazze, i colori sono quelli storici, il rosso ed il blu. Nuovo smalto che ravviva i ricordi sbiaditi di una serie B che sembra oramai lontana. Di tante vittorie ma anche di sconfitte, di cadute e di rinascite, il Cosenza ha fatto emozionare intere generazioni e continua a regalare momenti indimenticabili. Qui siamo a Rende, nei pressi del Lorenzo. La passione non ha confini, anche quando si abita a due passi da un impianto in cui la rivalità tra tifoserie in passato è stata accesa. In via Popilia ci sono quartieri che si sono organizzati accogliendo l'invito dell'amministrazione comunale che ha indetto un vero e proprio concorso con tanto di premio all'allestimento scenografico che meglio celebrerà il centenario. Qui hanno offerto un colpo d'occhio non indifferente e c'è chi invece ha deciso di far da sé esponendo non solo le bandiere ma anche una riproduzione fedele del lupo con cento anni tra le zampe. Bella, luminosa ed imponente la cifra 100 che campeggia dal palazzo di città e se poi diamo uno sguardo su Corso Mazzini ecco tanti cubi rosso-blu che si confondono tra le teste dello storico lupo. Corso Telesio è un tripudio di bandierine stese da un lato all'altro dei balconi più su verso il castello ai 13 canali anche la fontana sembra augurare buon compleanno ai lupi così come l'intero quartiere che scomoda addirittura una nota canzone del califo. Salendo verso Portapiana invece troviamo lavori in corso Siamo un po' addobbando il quartiere per quanto riguarda questo centenario ci siamo impegnati moltissimo a fare una raccolta fondi per addobbare un po' al meglio nelle nostre capacità il nostro quartiere che è Portapiana Il Cosenza è una passione irresistibile che non conosce la crisi Ho partecipato in molti per quanto riguarda questo centenario perché la città ci crede e sarà una bella esperienza Lavorate giorno e notte? Quasi ci diamo da fare E mentre alcune zone della città sono per così dire poco colorate c'è chi addirittura ha deciso di dedicargli due intere vetrine qui siamo in via Roma e in questo esercizio commerciale hanno lavorato in tanti per allestire lo scenario Sì con l'aiuto di mia mamma e lei abbiamo collaborato insieme perché siamo tifosi e vogliamo sostenere la tifoseria e il Cosenza affinché vada sempre tutto bene Mentre su Corso Mazzini un negozio storico gestito da un tifoso di vecchia data non poteva che aggiudicarsi la palma di vincitore Secondo me era doveroso dedicare una vetrina al Cosenza Calcio perché oltretutto è il centenario quindi secondo me tutti i negozianti dovevano dedicare non proprio una vetrina ma almeno un segnale ci doveva essere un segnale perché il centenario non è che ogni giorno c'è questo benedetto centenario che è una cosa secondo me molto molto importante E mentre la città continua a colorarsi come all'ingresso dell'autostrada l'invito per tutti è quello di riempire numerosi gli spalti del San Vito per celebrare il secolo di vita del Cosenza ma anche per sostenere la squadra che merita di conseguire obiettivi sempre più ambiziosi Beh mi sa che l'invito di Anna Franchino è stato raccolto in pieno perché la prevendita va avanti a gonfie vele quindi apertura della tribuna B scoperta tanti ragazzi di scuole scuole calcio che stanno aderendo all'iniziativa della società del Cosenza quindi adesso c'è solo da divertirsi questa settimana indimenticabile una delle tante di questo anno del centenario e adesso il meteo Ben ritrovati da Cosenza Meteo.it Dopo la sfuriata calda la situazione torna lentamente alla normalità l'animazione delle immagini meteosat di ieri ci mostrano nuvolosità frastagliata risalire dalla Tunisia nuvolosità che è collegata ad un centro di bassa pressione che nelle prossime ore risalirà verso lo Ionio determinando un peggioramento del tempo la sua traslazione verso l'Egeo poi favorirà l'ingresso di aria più fresca dall'Atlantico che gradualmente riporterà le temperature nelle medie del periodo vediamo quindi le previsioni in dettaglio per la Calabria nella giornata di domani nuvolosità irregolare più compatta su zone tirreniche e reggino piogge diffuse anche a carattere di rovescio sulle zone tirreniche le temperature risulteranno in lieve calo passiamo ora alla previsione di mari e venti domani mari poco mossi o mossi con ventilazione in rotazione da quadranti occidentali per approfondimenti vi ricordo le mappe di previsione ad alta risoluzione presenti sul sito www.cosenzameteo.it per oggi è tutto grazie dalla cortesia attenzione a domani il TG finisce qui la parola passa a Pino Gigliotti con parola mia noi ci vediamo alle 22.30 sempre in diretta con la prossima edizione del TG10 arrivederci a Pino Gigliotti